E a Roma durante la presentazione di un libro che contiene una raccolta di insulti rivolti proprio al Ministro per l'Integrazione parla Cecil Kieng che in qualche modo cerca di smorzare le polemiche. Matteo Parlato. I giorni della vergogna è un libro di denuncia con una raccolta di insulti al Ministro per l'Integrazione. Alla presentazione del volume ha partecipato l'interessata che così ha risposto agli insulti. Gli insulti che sono stati considerati da una parte del Paese come gli insulti alla Ministra in realtà sono insulti all'Italia. E ora c'è un'ultima iniziativa del quotidiano della Lega, pubblicare tutti gli appuntamenti del Ministro. Questa iniziativa modificherà la sua agenda di lavoro? Io continuo a lavorare, io come sempre non ho paura di nessuno, vado avanti. Chi ha intenzione di seguire le cose che sto facendo ha la libertà di poterlo fare. È chiaro che dipende sempre anche dalle modalità con cui ci si confronta con la persona. Dipende anche dal modo in cui si vuole portare avanti un contributo positivo per il cambiamento della nostra società, per un contributo anche per il cambiamento culturale per la nostra società. Io sono per la non violenza, sono per il dialogo e se hanno bisogno di dialogare sicuramente trovano da me una porta aperta. Ma se hanno bisogno di un confronto che va fuori da quello che è un linguaggio democratico, credo che hanno sbagliato luogo.